Musica Ragazzi, ci siamo eh! Non facciamo che poi dite ma io non lo sapevo, m'ero dimenticata che il 14 è fra 4 giorni non ve lo potete dimenticare è una presentazione di un libro, del mio libro che è una cosa fantastica una chiacchierata fra amici fra quelli che non conosco e che non mi conoscono e fra quelli che invece mi conoscono e con i quali ci vediamo una volta ogni tanto e poi ricordatevi che con il professore Ercole Tringale che fa un assist sulla scena quando facciamo la pièce e io che faccio la callas faremo dei pezzettini piccoli piccoli non venirete per niente di questo copione e vedrete veramente l'essenza di questi personaggi che in fondo è quello che noi vogliamo che voi conosciate ma ricordati anche se hai fatto di tutto per distruggermi io posso tornare la callas quando voglio grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.